Sponsor di Miss Italia E in passarella adesso la concorrente numero 12, Sara Bicale Sara arriva da Genome, ha 18 anni, studia lingue ma vorrebbe frequentare giurisprudenza Pear è il marchio storico californiano di abbinamento per uomo, donna e bambino diventato celebre con il film Un Mercoledì da Leoni ma questa sera è Un Mercoledì da Leonesse Pear, sponsor tecnico di Miss Italia